La struttura in villa, all'interno del complesso le casette di campagna, è un'oasi di gusto ed eleganza immersa nel verde della riserva naturale Valle dei Casali. Gli ampi spazi, la cura dei giardini, la curatezza nella scelta di ogni singola pianta e ogni fiore fanno da cornice alla location conferendole una pennellata di fascino senza tempo. In villa nasce con l'intento di offrire agli sposi un posto che permetta loro di vivere il grande sogno a pochi passi dal centro di Roma, lontano dal frastuono dei motori e avvolti dai suoni e profumi incontaminati che ogni stagione può regalare. Una location del tutto polifunzionale dotata di giardini esterni, una piazzetta immersa nel verde, una sala interna e una terrazza panoramica che saranno a vostra disposizione affinché il matrimonio sia indimenticabile e suggestivo. Il responsabile commerciale ed il responsabile tecnico creeranno insieme a voi dei menu personalizzati e vi forniranno preziosi suggerimenti per trasformare il vostro desiderio in realtà. Lo chef con la sua professionalità ed esperienza preparerà con cura e innovazione ogni portata, che avrete modo di degustare in anteprima al giorno del matrimonio in modo da conservare l'estrema trasparenza del servizio offerto.